Miei carissimi milanesi, sapete che di qua passano storie, storie di persone, storie di eccellenze, storie di luoghi spesso e volentieri. Questa sera parliamo e parleremo con una persona che è legata a tutti gli effetti a un luogo, un po' perché volente o non volente c'è cresciuto anche lì e quindi c'era poco da fare, quindi l'era lì. E' un po' perché poi di questi luoghi la gente si innamora e quindi come fai a prendere a andartene via e non voler raccontare la storia ad esempio di Cascina all'interno? Sigla! E avete già capito, infatti lo avete qui di fianco a me, l'ospite di questa sera è Gianni Bianchi, anzi come tutto conosco un livello, Gianni Bianchi di Cascina all'interno. Fondamentalmente è una sorta di titolo buonorario, non so, una sorta di duca di, no? Sembra così. Gianni Bianchi di Cascina all'interno. Gianni dell'all'interno. Il Gianni dell'all'interno, eccolo qua. Gianni dell'all'interno, come stai Gianni? Va bene, bene. Io potevo fare una trasmissione che si chiama Miei carissimi milanesi e non avere te, cioè era un reato, sarebbe stato un reato. Ti ringrazio di cuore per questo invito, sono anche orgoglioso, un invito da parte tua per parlare di questo territorio e della nostra all'interno, non parlerò mai della mia all'interno. No, non parleremo solo di quello, infatti quest'oggi, ma appunto questi sono i miei carissimi milanesi. I miei carissimi milanesi siete voi che ci sentite da casa, voi che ogni tanto devono venire anche lì a tirarvi le orecchie perché fate delle cose, cari milanesi, che sono un po' strane, cioè la pericena e tutte queste cose strambe che ci inventiamo a Milano. Però sono anche i nostri ospiti, perché tu sei un milanese doc o no? Già arriva anche un milanese doc? Ma sì, possiamo dire di sì, perché i miei nonni arrivano da Vighignolo, seguro. Usti, lontanissime, mia patria, la mia zona quella lì. I bianchi arrivano da quella zona lì, mia madre e quindi i miei nonni. Quindi in questo momento ho provato di conoscere dei parenti suoi, tra parentesi poi ne parliamo dopo. Il mio padre è nato alla cascina all'interno e sulla sua carta d'identità che conserviamo ancora c'è scritto nato a Baggio. Nato a Baggio. Nel 1911. Quindi non è un F205 ma solo perché era ancora meglio, era Baggio. Nato a Baggio. E mia madre invece arrivava purtroppo da Treviglio, si sono incrociati sulla via Fratelli Zoia e da lì è scoppiato qualcosa di bello. Pensate adesso che comunque una donna che arrivava da Treviglio, insomma, non è proprio quel suo l'angolo. C'è una bella storia. Non è quello dietro l'angolo. C'è una bella storia. C'è come dire adesso uno che arriva da chissà dove. Cioè, cosa ci faceva in via Fratelli Zoia la signora? La signora Erminia. Erminia? Ma dai, come la mia misdonna. Era la signora Erminia e arrivavo appunto da Treviglio con la famiglia. C'è una storia che si aggancia incredibilmente a questo territorio. Ti amiamo in ballo anche Don Giuseppe Gervasini, famoso prese della Tanà. La nostra nonna, Nonna Rosa, frequentava già Don Giuseppe quando aveva la casa in Piazza Fontana. E c'è stata un po' di crisi a Treviglio e dintorni. Anche qualche problema in famiglia. Allora la nonna chiese a Shur Don Giuseppe, perché per noi non è il pre de la Tanà, ma è Shur Don Giuseppe, chiese a Shur Don Giuseppe se c'era la possibilità di trovare del lavoro al nonno Angiolino a Milano, così aveva anche la possibilità per far studiare i figli. Quindi riformarsi una famiglia in un luogo un po' meno difficoltoso rispetto a dove si trovava. E Shur Don Giuseppe l'ha preso in parola. Prese contatti con Shur Riku, farina, da Sela Nuova. Dice, no, hai bisogno di un caporale. Sela Nuova, che riconiamo, esiste ancora la Sela Nuova? Sì, esiste ancora. È Forza Armata, giusto, lì dietro? Sì, dietro le Selunga, di via delle Forza Armata. Tra Bisceglie e via Forza Armata c'è questa cascina. È interessato da un progetto di recupero. Ci fanno un mercato vicino. Esatto, via Venti Voglio. Quelli che sono della zona magari possono comprenere. Per farla breve, l'angiolino Perego con la famiglia si trasferirono alla Sela Nuova. Mia madre lavorava qui vicino ai tuoi studi, ai Pubiette de Tren, c'era il passificio Caldara, se non sbaglio. Può essere. C'era questo passificio. Lei faceva la via Fratelli Zoya, poi attraversava la vecchia quarto per arrivare ai Pubiette. Eh sì. Dove c'era Nonno Ranfi che aveva l'osteria. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Quindi, casa mia di qua. Eh sì, dalle tue parti. E conosceva, cioè mio padre e lo zio Silvio, cioè fratello di Arminia, si conoscevano per qualche serata passata, magari a bere qualcosa assieme. E in certo punto mio padre si fece coraggio. Tornato dalla guerra, ha fatto undici anni tra Abissini, Albania, eccetera, eccetera. Undici anni incredibili. Tren, ci sono storie che a pensarci adesso sono inimmaginabili. Sono inimmaginabili, sono inimmaginabili, ma è inimmaginabile. Ci prendiamo di vista se ci spostano la fermata dell'autobus o se cambiamo il numero di cellulare. Mi pare si è fatto undici anni tra la campagna d'Africa e la campagna d'Albania. È tornato a casa, pesava trenta chili, è un bello umone anche lui. È tornato a casa una larva umana e poi dopo, a un certo punto, insomma, gli anni andavano avanti, dove mette su famiglia. Ha saputo che c'era questa Erminia lì alla Sera Nuova, si è fatto coraggio. E un giorno l'ha fermata in un modo pazzesco. Diceva, io devo parlarti. Questo è stato l'approccio tra i due. Mi hanno detto che lo dico la cosa. Dopo non si sono frequentati in un certo periodo, poi si sono ritrovati e hanno, insomma, si sposato. Quindi, anche quando mi dicono questo famoso Shur Don Giuseppe, Prederatana, perché abbiamo a cuore il Don Giuseppe, se non c'era Don Giuseppe... Era un uomo di famiglia proprio. Era un uomo di famiglia. Ma se non c'era Don Giuseppe a mettere la buona parola con il colfarina, che non c'era Gianni, non c'era Enrica, non c'era L'Angelo. E quindi adesso si capisce perché ho anche questo legame di Gerato. No, però dai, prendiamo un attimino. Perché Prederatana si chiamava però? Sì, perché per diversi anni... Per diversi anni... Che per la traduzione letterale quale sarebbe Prederatana? Rettenate. Lui per diversi anni era coadiutore, era tenutario, non so come dire, di una cappellina Rettenate, che è sulla Paulese, dove c'è la tenuta in vernizia. C'è questo piccolo borgo simile all'interno, come dislocazione, come architettura, come conformità. C'era questa chiesetta e lui era il cappellano di questa chiesetta. Ed era un po' trasandato, un po' vestito in qualche modo. Adesso diamo un'alternativa. E a piedi percorreva quei 5-6 km che da Ratenate la portavano a, aiutami, dopo Cernusco sul Naviglio, a Villa Fiorita, c'era la fermata delle linee ceneri dell'Ada. Lui per venire verso il centro di Milano faceva questo tratto a piedi. E lì si era spasso... Adesso passare a me due, infatti. Esatto, passare a me due. Ma del Duario, che è il pre lì, in civi estimale, è a Deratana e l'appellativo è il pre Deratana. Un personaggio... Che lui non voleva essere chiamato pre Deratana e diceva, mi sono nel Don Giuseppe e basta. Don Giuseppe, che era un po' però un punto di riferimento per la zona, perché appunto... Beh, non so. Molti passavano di lì, molti si fermavano, si dice che era un po' Burbero, però io tutti quelli che mi dicono, però poi ci hanno parlato insieme, quindi dico Burbero sì, però lui parlava con il Tucci. Sì, 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 ma lui era il prete, era il prete, il guaritore del popolo, insomma. E si dice che avesse un po' questi... Arrivato all'interno nel 26... Poteri guaritore aveva, cosa si può dire? Sì, guaritore, borista, taumaturgo, psicologo. E non era un campante per aria, perché lui aveva compiuto il servizio militare nella sanitaria, come dicevano, e lì aveva potuto approfondire le cure cosiddette omeopatiche. Quindi la scuola salernitana con l'idroterapia e la fitoterapia con il dottor Kneipp. Diciamo che poi il resto è il popolo che ce l'ha aggiunto, non so come dire. Sì, ok. Cioè il santone curatore arriva alla leggenda. Facciamo però mente locale all'epoca, non c'era certo l'antibiotico, non c'era una certa medicina al giorno d'oggi, per una ferita potevi... Viste le cose che leggiamo su qua, sembra che adesso è peggio di prima, quindi stiamo bene a guardare. Comunque ha lasciato una traccia indelebile nella storia di Milano. Cosa significa per te Gianni essere nato in un posto del genere? Tu sei nato proprio alla caccia interna? Sono nato lì. Sul tavolo della caccia interna? Sono nato proprio in casa. Sulle assi delle caccia interna? Sì, sì, ma anche questa sembra una storia da Albro degli Zoccoli, da altri tempi, perché io sono il terzo figlio. Tu sei il terzo figlio, classe 1900? 54. 1800, no scusa? No, 1900. Beh, li porto bene allora. Poi siete tre. Sono nato nel 54. Poi siete tre, giusto? Sì, l'Enrica del 48. L'Enrica la più grande? Sì, la più grande. L'Angelo è del 50, io sono del 54. Loro due sono andati in clinica, una a Macedonia Meloni e l'altra alla Mangiagalli. Io invece sono nato lì. Ma anche qui c'è una storia da altri tempi. La Schur Ernesta, che era vicina di casa, ha aiutato mia madre durante il parto con la levatrice di quarto. E qui faccio anche un appello a tutti i tuoi telespettatori se qualcuno ricorda il nome di questa levatrice di quarto. Perché io ho chiesto in giro e nessuno me l'ha saputo dire. Mi chiede al mio padre, che è andato in casa qua a Quanto Cagnino. Quindi, c'è anche la famosa frase di nostro padre, il Piero, che doveva andare in cantiere perché lui era capo maestro, capo maestro, e dice chissà se stasera tu un'icata e le tuita post. Quando è tornato a casa c'era questo rompipale del Gianni che già allora rompeva le scatole. Anche qui è una storia pazzesca, a mezzogiorno mia madre era giù al fontanile Marcionino a risciacquare i panni, 20 marzo, non è che è una temperatura poi agevole, ma l'aveva fatto anche nei mesi precedenti. A mezzogiorno stavo a risciacquare i panni nel fontanile e alle 4 del pomeriggio sono nato io. Alcuni dicono che forse questo è il motivo per questa passione esagerata per l'acqua, per i fontanili, per l'acqua che scorre, per la storia di questo luogo. Per la storia di quel luogo infatti perché poi è questo, cioè tu sei legato a questo punto. Ho un legame viscerale, ma la cosa bella che a mo' di scherzo lo dico sempre, all'interno e dintorno c'è una malattia irreversibile, l'internite, noi siamo ormai ammalati di l'internite cronica, ma è altamente contagiosa e non si guarisce più. La cosa bella è che non stiamo parlando di una storia che, non so, l'albero di Zoccoli o chissà dove, ambientata in qualche cascina sperduta della bassa padana o dell'Odigiano, chissà dove. Siamo praticamente, anzi oggi siamo nel bel mezzo della città. Esatto. Nel 54, vabbè, eravamo un po' ai confini, ma già negli anni 70 eri nel bel mezzo della città. A partire dagli anni 50 col famoso piano fanfani. Quindi sarebbe stato un attimo per te, volendo anche perdere il legame con quel posto, era un attimo, volendo, sai, i cattacieli arrivavano, si andava a lavorare, tu hai lavorato da tutta l'altra parte, poi nella tua vita, giusto? Sì, ho fatto, ho sottato un elettrotecnico, ho lavorato per 40 anni nel mondo, prima Enel, 30 anni e poi… Quindi tra prendesi neanche un mondo agricolo il tuo, legato al mondo agricolo il tuo personale. Ma anche mio fratello è uguale, lui ha lavorato all'Italtel, alla Sissi, mi esprime, Italtel dopo. E fa parte della storia di famiglia, il nostro padre alla mattina faceva l'agricoltore, mungereva quelle due mucche che avevamo, due, due mucche e due. Tutti lo ricordi? Quando faceva questa cascina? E beh, come no, e come no. E comunque lui sistemava l'azienda agricola piccolissima, familiare, poi prendeva la bicicletta, andava sul cantiere magari all'ambrate, roba da poco. Faceva quelle sue belle dieci ore in cantiere, e non era anche questo un lavoro troppo agevole. Tornava a casa, si rimetteva i panni da contadino e faceva la sistemazione serale agli animali. Quindi era una vita di grandissimi sacrifici. Tu l'hai mai fatto al contadino? L'ho fatto, l'ho fatto perché io ho cominciato appena… Insomma, da bambino la prima cosa che ti hanno in mano è il rastrello, no? Quindi caricano il fieno, caricano l'erbe, tu con il rastrello devi raccogliere le… Fai lo spigolatore, in poche parole. E dopodiché cresci, ti viene la forza, cominci a caricare, cominci… Ma ho passato serate, pomeriggi interi sul fienile a schiacciare il fieno. Anche questo sembrano discorsi d'altro… E poi no, la mattina mi immagino che tu poi la mattina prendevi e andavi a scuola dove? Io andavo a scuola a Porta Genova. Quindi in piena città andavi? Sì, sì, fino alle 2 del pomeriggio. Cioè i tuoi compagni di classe a sentire le tue storie ti pensavano che venissero a chissà dove? Sì, esatto. Venivano a Marte, vedi? Sì, ma era veramente, agli anni 70. Porta Genova in 70 che tutti i tuoi compagni fossero metà meridionali appena arrivati dal sud, che stavano a studiare, che erano appena arrivati con una famiglia che doveva andare… E l'altra metà milano esotti proprio dei navidi, di gente… Sì, milano di intorni, arrivava gente anche da Gaggiano, mi ricordo, che gravitavano lì alla scuola Gallerio Ferraris per elettrotecnici, anzi elettricisti impiantisti, per essere in bassa tensione, per essere… Adesso si chiamano meccatorici adesso, penso. E poi ho fatto i due anni di serale per la maturità e ho acquisito la maturità professionale con ben 55 sessantesimi, lo dico con un pizzico d'orgoglio. Quando dicevano che abitavi alla cascia all'interno, la gente pensava appunto che questo qui è arrivato da chissà due. Sì, ho sofferto un po' di questa… Eh, sentiamo, infatti, dai. Sì, perché noi eravamo i figli della contadinaccia, che era la Shureminia. Dopo conoscevano la Shureminia e arrivavano lì a chiedere consigli, perché la Shureminia era veramente una persona eccezionale. Questo è il nome della Shureminia. Poi anche il papà Piero, fino alla pensione, lui è andato in pensione a 59 anni, l'ultimo anno l'ha fatto da disoccupato, perché dopo la terza caduta dall'impalcatura ha detto, dai me che mi fermi, se no ci lascio le penne. Ha fatto l'ultimo anno da disoccupato, all'epoca si è andato in pensione a 60 anni, e da lì è rinato, e da lì abbiamo conosciuto anche il nostro padre. Prima lui lavorava e basta. Lui lavorava, portava i soldini a Shureminia, digestiva al centesimo, alla lira. La classica famiglia milanese, no? Con tre figli e il fratello di mio padre, che era il Galdino, invalido, insomma, Gheranò desfugliavers, come si dice. Gheranò desfugliavers. Desfugliare le verze. È un modo di dire, cioè, desfugliavers. Perché è un modo di dire di chi ha pochi soldini e non può buttare via anche le foglie delle verze, ma deve tenere anche le forze, deve tenere tutto perché è da nega e ne minga. E anche il nostro padre, noi lo conoscevamo come una persona integerrima, però partiva la mattina, tornava la sera. E cosa vi siete trovati invece in casa? E ci siamo trovati in una meraviglia di uomo, una persona fantastica, con una fantasia incredibile, con un linguaggio pazzesco, il linguaggio del Magut, che è una roba. Tu pensa che ho trascritto tutte le frasi, gli aneddoti di nostro padre. Lui per ogni circostanza aveva un aneddoto. La più bella, secondo me in assoluto, che merita il titolo di un libro, sai che i muratori, diciamo, l'inconveniente professionale sono le ragadi, i sedul, quei tagli che non guariscono mai nelle mani, l'acidità del cemento provoca quei tagli dolorosissimi. E io dicevo, ma papà, per far guarire i sedul, avevo la polvere di sacocce. Cioè ci vuole la polvere delle tasche. Ecco, mette le mani in tasca e tu guarisci. Fai niente. E questo mi è rimasto impresso. L'aveva tutta questa serie di aneddoti. E anche nostra madre aveva una serie di circostanze che abbiamo trascritto nelle memorie del nostro libro di famiglia. E insomma, sono cose notevoli. È in fase di perenne produzione. Ti posso anticipare il titolo. Si chiama Il granelino di Pepe. L'ha scritto interamente Angelo. Trascrivendo... È arrivata l'ora di farlo uscire. Siamo stati lì po' che settimana fa a vedere il libro della signora Adele, 103 anni, del giantino. Ti dirò, Angelo mi ha detto, il libro è il suo, devi prendere in mano tu. Ecco. Cioè, fare la correzione bozza. Scrive se scrive, dai. Sì, ma non riesco a leggere quel libro. Perché mi sto emozionando già adesso solo a parlarne. È un bestseller. È scritto col cuore. Io ti posso dire che ho scritto il capitolo delle ultime ore di nostra madre, quando era purtroppo allo stato terminale. e mi cadevano le lacrime nella stazia del computer. Perché? Perché era una vita intensa. Avevamo un rapporto molto... Cioè, il concetto famiglia, in famiglia bianca è molto forte. Gianni, se non sbaglio, quello che capisco ogni volta che mi racconti, che vedo anche tuo fratello, non state parlando solo dal punto di una famiglia, state parlando di un'unione. Cioè, voi state parlando di una vita fatta insieme... Anche adesso ti dirò che ormai non siamo più ragazzini. L'angelo va per i 73, Enrico va per i 76. Abbiamo ancora quest'unione incredibile. Un mese, un mese e mezzo fa, Enrico non è stata bene. Abbiamo dovuto portarla all'ospedale. È stata una decina di giorni ricoverata. E da lì è stata la svolta. Dovevamo assumere dei badanti giorno e notte per assistere Enrico, il marito Claudio, che è anch'esso invalido. E lì è scattata la famiglia Bianchi. A un certo punto, Angelo ha detto, vengo io a dormire da Enrico. Adesso Angelo, a mezzogiorno, alla sera, prepara anche lui da mangiare. Fa la scala per andare nella lavanderia, così non fa più fare le scale a Enrico. Gli prepara la lavatrice, dice queste cose, mangiano assieme e dorme lì da Enrico. Si è ricostituito una familiarità pazzesca. Non è scontato che le famiglie facciano così. Lo sappiamo, sono famiglie che si... Ma per noi è giusto. Per noi è giusto. Secondo te da chi l'avete imparato? Chi ve l'ha insegnata questa cosa? Dove l'avete imparata? È dentro di noi. Non l'abbiamo imparato da nessuno. I nostri dicevano, i vecchi... Anche così, i vostri genitori? Sì, i vecchi non morire in casa propria. Non ne ricordano. Forse il fatto di avere avuto un papà che è avuto prima si cura del fratello? Sì, sì, è nostra madre, idem, ha curato i suoi genitori fino alla fine e noi abbiamo curato i nostri genitori fino alla fine. Abbiamo curato la zia, anche essa è venuta lì all'interno negli ultimi giorni. E l'abbiamo nel nostro DNA. Per noi è normale. Ti dico, adesso c'è un po' di operazione di nostalgia, però lo ricordo con grande affetto. Quando c'era nostra madre, lei faceva la chiocciola con tutti i suoi pulcini, no? E anche con Graziella, con mia moglie, non era obbligo, però tutte le domeniche sere, Casa Bianchi, il tavolone, a piano terra, e la cena, la cena sotto... Eh, perché adesso stiamo parlando di un momento magari un po' più triste, comunque un po' più... Di necessità, no? Di grande emozione. Nel senso che adesso appunto è una necessità quella di doversi prendere cura di tua sorella, quella di doversi darsi da fare per rimanere. Però questa grande emozione ha sempre anche generato dei momenti bellissimi. Bellissimi, bellissimi, ma io mi ritengo... Anzi, sono molti più belli, sono molti più momenti belli di quelli... Io mi ritengo molto, molto fortunato di avere una famiglia, una famiglia così, che siamo pronti ad aiutarci anche economicamente quando uno dei tre in difficoltà gli altri due intervengono. Abbiamo il nostro, il nostro conto in banca condiviso che era alimentato, tu pensa, dalla pensione di nostra madre e quando l'Enrica ha avuto problemi per far studiare i figli abbiamo attinto dal conto solidarietà. Quando io ho avuto un incidente per accompagnare mia madre in ospedale, ho fatto 5 milioni e mezzo di danni all'epoca, nessun problema. Conto solidarietà e mi ha pagato il conto del carrozziero. e quindi noi abbiamo questo senso di famiglia solidale ma non solo in casa, anche verso l'esterno perché io dico sempre che... Adesso faccio una domanda difficile. E i nipoti come sono? I nipoti sono legatissimi però stanno facendo la loro strada e non hanno più tempo perché i giovani il giorno d'oggi, per me mi dicevi anche dei tuoi collaboratori, lavorano 15 ore al giorno, sabato o domenica, sono sempre appiccicati agli smartphone e le otto ore sono ormai più rassi. E poi vedi anche tuo papà usciva la mattina all'alba, faceva la cosa, tornava. Cosa si è rotto? Si è rotto. Papà posso chiederti, ormai c'è quell'età a cui posso farti una riflessione. C'è qualche anno in più di me nonostante la barba molto più bianca io di te. Hai qualche anno in più di me per cui posso chiederti il consiglio? Il consiglio è che io ormai l'anno prossimo faccio i 70 quindi non sono più un giovincello. Il consiglio è di non trascurare la famiglia perché io ho vissuto la grande contestazione nel 68 negli anni 70 in cui la famiglia era da distruggere perché era l'emblema del insomma che non andava più bene. e invece questo è stato un gravissimo errore perché la famiglia ti aiuta sempre. Come era Gianni Bianchi negli anni 70? Non lo immagino. Ma ero uno spirito libero. Ero un gimietro che si cadava in giro? No, no ero uno spirito libero nella natura del parco delle cave ero sempre sugli alberi come uno scoiatolo che adesso ci sono. Io vivevo sugli alberi. E' un ambientalista antilitteral. Adesso senza saperlo. Adesso fai il fighetto se vai a vivere sugli alberi. Senza saperlo ma io vivevo sulla pianta di ciliegie o se no andavo nelle marcite a prendere i pesciolini che all'epoca c'era ancora l'acqua pulita e poi ho vissuto sulla mia pelle il dramma dell'inquinamento per quello che adesso quando vedo un corso d'acqua pulita mi fermo e mi metto in adorazione insomma perché dimostra che si può tornare. Hai detto una parola che secondo me chi ci ascolta da casa non sa neanche cosa sono le marcite tipico di questa zona cos'erano? Le marcite erano un'autentica gloria dell'agricoltura milanese sono anche chiamati prati invernali sono delle strisci di terreno inclinate di circa 10 gradi come un tetto di una casa nella parte più alta del tetto nella sommità viene immessa acqua e questa per caduta va giù e viene raccolta nella parte più bassa e lì c'è un canale secondario che la porta che la porta via il canale c'è un'acquatrice collegata con la sorgente poi ci sono i fossi maestri che scoprono nella parte alta della malcita i fossi secondari che portano l'acqua nel collettore chiamato anche canale di ripiglio quindi c'è un riciclo totale ok un riciclo totale dell'acqua questo è per tenere calda la piantina durante i mesi invernali perché l'acqua del fontanile incredibilmente ha una temperatura alla sorgente più alta in inverno che in estate in inverno può anche salire a 10 12 14 gradi dipende dall'acquifero se è profondo superficiale e in estate scende a 8 9 gradi e quindi immettere acqua di 12 13 14 gradi su una superficie e questo blocca scongiura il congelamento esatto fa quello che diciamo noi una sorta di cuscinetto termico sulla superficie impedisce al gelo di aggredire le piantine le piantine continuano a vegetare durante l'inverno e già dal mese di marzo qui la parola marzido forse deriva da lì ci tagliava la prima erba quindi marzido non è perché è marcia no assolutamente uno li dite che sia perché è acqua poludosa tutto marcio assolutamente l'acqua è in perenne movimento c'è questo velo d'acqua di un paio di centimetri che deve essere tenuta a livello perfetto e no non sono le risaie le risaie è un'altra cosa è un'altra cosa anche quelle tante da questa zona ma sono fatte in maniera diversa tutta questa no non è zootecnia questa agraria dove l'hai imparata? l'hai imparata sul campo e poi c'è una similitudine incredibile tra gli elettroni e le gocce d'acqua insomma uspita aspetta qua mi metto la cintura di sicurezza un attimo allora il principio in elettroterapica c'è la differenza di potenziale tra un punto potenziale alto e potenziale basso più o meno a un certo punto si crea il flusso di elettroni e in idraulica c'è il punto alto e il punto basso si crea lo scorrere dell'acqua delle alcune regole la resistenza sono tutte cose che le traduci anche nel mondo idraulico è un po' forzatella la cosa però il principio è sempre quello l'interruttore la chiusa apri la chiusa scorre l'acqua chiudi il rubinetto e quindi alcuni principi ma valgono anche per il magnetismo valgono anche per altri fenomeni scientifici posso dirlo ma anche per l'essere umano a volte vanno ma quante resistenze abbiamo che forse dovremmo aprire i nostri rubinetti a morte ti dirò adesso mi fate una mia mente uno dei miei disegni più utilizzati è uno schema elettrico del sistema idraulico della zona ovest essendo un elettrotecnico ho disegnato tutti i fontanili come se fosse uno schema elettrico con le derivazioni i passaggi le chiuse infatti lo chiamano lo schema elettrico dell'acqua e ci hanno studiato anche dei ragazzi del politecnico e hanno capito immediatamente come l'è il giro dell'acqua perché appunto noi ci dimentichiamo sempre perché Milano è una città d'acqua altro che Venezia è una super città d'acqua a parte i navigli a parte i navigli aperti o navigli chiusi a parte quelli Milano praticamente galleggia è una città di sorgenti di sorgenti di fontanili solo le lores milanese non so quanti ce ne sono però in un censimento della provincia di Milano del 75 c'erano 640 sorgenti attive nel comune di Milano adesso sono molto meno sono molto meno ma c'è una ripresa in corso con gli ultimi due anni con la siccità si è rallentata un po' la cosa ma dovuta essenzialmente alla crisi industriale perché sappiamo posso ricordo a chi ci ascolta che la falda acquifera di Milano è una delle pochissime falda acquifera nelle città italiane che sta risalendo perché? perché viene un minuto utilizzata rispetto a prima perché con l'industria in crisi l'industria usa meno acqua di quella cosa da prima e quindi salendo come ce ne siamo accorti esempio su tutti gli allagamenti nella metropolitana 2 la metropolitana 2 non era stata impremiabilizzata tutta perché era ben sopra il valo della falda acquifera quindi era inutile stare a impremiabilizzarla negli anni 70 quando è stata costruita bene ci ritroviamo negli anni 20 del millennio dopo a dover chiudere e fare tutta la calotta perché l'acqua è ormai è salita una notizia che mi ha dato il nostro comune amico Simone Simone Lunghi che incredibilmente con l'asciutta del naviglio la Darsen aveva acqua però io gli ho detto ma scusa Simone da dove il cribio arriva quell'acqua fai acqua di falda ma come acqua di falda semplicemente nella zona del parco solari per abbassare la falda acquifera di tutta la zona di Portageno via Foppa che c'era il problema dell'allagamento anche della metropolitana hanno sistemato una serie di pozzi che mandano acqua nel vecchio alveo dell'Olona che attraversava il parco solari e arrivava in Darsena e quindi attraverso il vecchio alveo dell'Olona portano acqua acqua sorgiva acqua di falda non sorgiva perché acqua pompata non è quindi sorgiva e ha mantenuto a livello la Darsena durante la lunghissima asciutta del naviglio grande questo dimostra quanto Milano sia una città costruita proprio sull'acqua e tante volte ce ne dimentichiamo il famoso slogan dell'acqua del sindaco alcune volte è anche abusato infatti però si arriva gli abusi di fare l'acqua del sindaco del bric insomma di poter attivitare ma vabbè facciamo perdere anzi a proposito questo ti chiedo invece quante Milano hai visto tu nella tua vita? rifarmi la domanda perché sinceramente non ho colto Milano da quando ci sei è sempre stata lei o è stata tante Milano diverse? beh sì che è stato tante altre beh io ho cominciato a conoscerla durante la scuola quindi era nel dopoguerra c'era tutta questa frenesia in cui non facevi tempo a finire di studi avevi già il lavoro assicurato ho conosciuto la Milano inquinata perché nel dopoguerra bisognava fare i danè e quindi più l'acqua era sporca nei fossi più significava lavoro era visto l'inquinamento purtroppo era visto come un beneficio la Milano delle cave in cui hanno sventrato tutto l'ovest milanese per stare a ghiaia e alla sabbia per costruire appunto i palazzoni la grande Milano del dopoguerra con la grande immigrazione ho visto la Milano delle grandi immigrazioni ad esempio nella nostra l'interno c'erano una ventina di famiglie la classica immagine della valigia di cartone con lo spago con la corda che arrivavano da sud di Milano e si accontentavano magari con due o tre figli a vivere un appartamentino con niente di 10-12 metri quadri magari vivivano in 5-6 con un unico servizio igienico in mezzo al cortile senza acqua senza nulla c'era un solo rubinetto che serviva tutta questa gente qua poi ho visto la Milano la Milano del lavoro perché ho cominciato anche a lavorare la Milano dalla contestazione e poi la decadenza con con l'arrivo della crisi industriale poi la Milano da bere che sembrava dovesse risolvere tutti i problemi e poi ho visto per ultimo la Milano degli open space cioè gli ultimi anni li ho fatti in 150 centimetri quadrati e ero abituato quando lavoravo al centro ricerca di Alene avevamo un salone che usavamo come sala riunioni e sala produzione di le nostre ricerche e a un certo punto ci conferiscono conferiscono il ramo d'azienda al Cesi al centro del tuo tecnico sperimentale 150 centimetri quadrati cioè un metremess un armadio solo e gli ultimi dieci anni l'ho fatti in un anno adesso non c'è più neanche quello adesso con lo smart working non c'è più neanche il 150 io giuro che la Milano degli open space non l'ho mai sentita bellissima la definizione e beh tu immagini noi avevamo un salone lo chiamavamo anche il salone delle feste a Colonio Monzese che all'occorrenza si trasformava a Natale Pasqua un compleanno una categoria diventava il salone dopo la Milano dell'open space invece che Milano è arrivata è arrivata la Milano dalla pensione nel 2011 ho maturato i miei 41 anni e mezzo di contributi ed è arrivata la Milano del tempo pieno per l'associazionismo per l'associazione amici cascino interno per la ricostruzione il restauro la ricostruzione di questo luogo e la piena apertura di questa struttura cittadinanza prima per cose cioè contingenti lavoro famiglia non potevo dedicare tantissimo tempo a questo magico luogo praticamente io dal 2011 che lavoro a tempo pieno per l'allinterno parco delle cave territorio le acque anche la lingua o il dialetto milanese insomma cerco di di trasferire in questa associazione molte molte delle cose che ho imparato durante la mia carriera lavorativa io Gianni non ti voglio fare troppe domande sull'allinterno sull'associazione anche perché ce la racconta tante volte e anche su google si trova tutto sul vostro sito si trova tutto ho spiegato benissimo quindi non mi soffermerei troppo sul grandissimo lavoro che state facendo insomma c'è da dire questo non mi soffermo troppo ma state facendo un lavoro pazzesco e avete salvato un pezzo di città avete fatto in modo che quel pezzo di città rimanga a tutti noi abbiamo dato un futuro infatti un futuro sia abbiamo contribuito a dare un futuro io parlo sempre in plurale ma in persona singolare perché sono tantissima gente un futuro al parco delle cavie un futuro anche a sta benedetta all'interno quindi abbiamo lavorato è un'operazione futuro non è passato quindi spostiamoci dall'interno dove andiamo? quali sono gli altri posti di Milano che Gianni Bianchi adora? ma un po' tutti un po' tutti anche se tra il lavoro e l'impegno e l'impegno sul territorio non è che avessi tantissimo spazio da dedicare da dedicare a altre mi piacerebbe fare una full immersion nel mondo degli archivi sicuramente viene alla città degli archivi l'ho vista o al famoso archivio di stato in cui l'ho visitato ma solo in così in passant mi piacerebbe approfondire alcune cose che conosco per sentito dire o delle intuizioni che abbiamo avuto io e Angelo e dare una valenza scientifica a queste intuizioni allora ti faccio io adesso ti faccio i nomi di zone e tu mi dici cosa ne pensi Gianni Bianchi di queste zone ok proviamo vai Navigli ma i Navigli cosa vuoi dire dei Navigli si sa tutto chiunque ha sempre frequentato i Navigli io ti posso dire che il posto dei Navigli a cui tengo e vado e quando passo mi batte il cuore è a San Cristofano tutto il resto non lo sento non lo sento mio perché è località da Movida vedere questi ragazzotti stravaccati sulle le protezioni a bere birra a buttare tu giovanotto dove ti stravaccavi non ti stravaccavi non ho avuto un'infanzia un po' meno sociale di tanti ragazzi del giorno d'oggi non ci credo un chiacchierone come te uno simpatico come te uno che ha tante cose da raccontare non ti credo ti posso dire che avevo un grosso problema che è anche la timidezza un cuore buono come te non ci credo che faccia la chiacchierabia socialità no io ho giocato ho avuto la mia infanzia la mia cioè la mia gioventù l'ho passata un'infanzia sportiva io giocavo a baseball casualmente il baseball come bevo con il baseball eh perché perché tra l'interno e il campo Kennedy andavo sei metri andavo inizialmente a raccogliere palline quando uscivano dei fauli insomma poi pian piano mi sono avvicinato e ritengo che ero un comodino eri Gianni no 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 assolutamente guarda tu ti dici la casa assolutamente ma sì ma ero abbastanza abbastanza vispo tu pensa che il soprannome di mio padre mi diceva che mi chiamava Balin 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 del shop tu pensa questo soprannome Balin me l'ha ricordato un signore che abitava all'interno tantissimi anni fa quando poi l'ho ritrovato 30-40 anni dopo ha fatto il Balin scusa cos'è il Balin e il tuo papà ti chiamava Balin del shop perché ero proprio sempre frenetico correvo sempre sui giù per gli alberi e roba del genere e quindi poi ho fatto questa 20 anni forse di più nel mondo sportivo purtroppo avevo la limitazione della vista non avevo la vista d'aquila e nel baseball la vista è assoluta ho avuto un buon riscontro da quando ho messo le lenti a contatto ecco nel 75 e ho cominciato a legnare come un disperato e diventare anche forti in battuto ma ma cavo molto bene in difesa ma ho fatto parecchi anni poi City Life City Life la vedo sempre un po' da lontano ma non riesco ancora a sentirla mia mi fa mi fa invidi la casa ai Ferragnez no per nulla per nulla inviteresti Ferragnez all'interno se vogliono venire anche domani non c'è nessun problema però vedo queste costruzioni nuove in ferro e cemento le vedo fragili non so se fra 50 anni ci sarà ancora City Life c'è un'immagine che ti invito una sera sempre in questo famoso parco delle cave per me ho le radici permanenti c'è uno scorso in cui vedi in parte il campo agricolo quindi l'agricoltura l'all'interno sullo sfondo City Life tutto illuminato ecco però non so se quello è il futuro perché fra 50 anni l'all'interno ci sarà ancora i campi fra mille anni i campi ci sono ancora l'interno lì quella roba non lo so il Ponte Morandi fa pensare fa pensare c'era un filosofo però non ti chiedo niente di Porta Nuova quindi non ti chiedo niente di Porta Nuova che è volenti lì proprio non te lo chiedo lì l'ho vissuta in modo traumatico lavoravo anche lì vicino con quella colata incredibile di cemento sopra l'ex Varesina e certo cosa stanno facendo qui poi dopo sono andato qualche sera a fare un giro lì in Piazza Gaia Olenti è una meraviglia è una meraviglia tanto di cappello io non so chi abbia abbia avuto una mentalità così geniale per progettare la Piazza Gaia Olenti tu vai lì e rimani a bocca aperta mi vengono in mente subito le foto del nostro amico Andrea che ha scattato immagini incredibili eppure quelle sono state pensate cioè non ha lavorato la natura ce n'è un altro di posto Nolo Nolo lo conosco poco sinceramente Nordi Loretto lo conosco poco conosco un pochettino la zona degli orti non è pensato di far cambiare il nome all'interno ma perché chiamiamo Sud di San Siro no no io farei cambiare a nord dell'interno Noli Noli nord dell'interno no no perché cioè quel nome lì quel nome lì c'è da sempre perché anche là se l'avevano Gorla Precotto chi sono io per fargli cambiare il nome insomma no no lascio lì che sta bene fare cambiare l'ultimo tratto della Fratelli Zoia ma l'hanno già fatto purtroppo Assure Don Giuseppe che non ha senso aver dato una via in fondo a via Budrio là dove c'è il cimitero di Baggio c'è via Don Giuseppe Gervasini che senso ha secondo me bastava cambiare il nome l'ultimo tratto quindi però no ma non va bene così i nomi non si cambiano mai perché ad esempio lì di fianco sta Benedetta all'interno c'è una località che nessuno conosce se chiamo la conserva la conserva perché lì c'era la ghiacciaia dove in inverno dove è a 100 metri circa dall'interno andando verso Forze Armate sulla riva di un fontanile che era il Marcione c'era questa ghiacciaia che è stata centrata da una bomba nell'ultimo conflitto per fortuna è finita dentro una ghiacciaia e non è scoppiato nulla se la bomba cadeva sulla via Fratellizzoria non c'era più l'interno non c'era più niente lo spostamento d'aria sarebbe crollato tutto noi eravamo in una zona di obiettivi militari perché mi raccontavano i miei nel 43 quando hanno bombardato i magazzini militari di via Olivieri ha detto che era una cosa adesso li vedi tutti i giorni non so lo dicevano anche a te mi diceva arrivava il Pipo il Pipo era il battitore libero era un cecchino un cecchino alato che era poi tante cose un italiano era una cosa terribile lui sparava su tutte le cose su tutte le luci accese ma però ha mitragliato anche un treno mi dicevano i vicini di casa che erano in fase di trasferimento come sfollati e lui è arrivato ha mitragliato anche un treno con gente civile che scappava dalla città bombardata per me da quanto mi hanno raccontato era un bel signor criminale un assassino di prima categoria che sparava per il gusto di sparare e uccidere per il gusto di uccidere quindi era una scena di cecchino del cielo di cecchino del cielo una scena che mi ha raccontato che adesso le vedi tutti i giorni del telegiornale questo mi fa rabbia quando vedi i bombardamenti in Ucraina c'era l'ingegnere Soncini di Baggio che durante i bombardamenti di magazzini militari per confondere i grandi microfoni gli aereofoni l'antiaerea italiana erano stati questi grandi microfoni che se tacciavano il cielo se così si può dire per individuare da dove arrivava l'aereo e poi e cominciavano a sparare erano quelli allora cosa faceva arrivava il caccia inglese prima dei bombardieri e disseminava il cielo di striscette di stagnola che facevano riflettevano le onde sonore e gli aereofoni erano messi fuori uso dopo la pioggia di striscette di stagnola arrivavano i bombardieri facevano tavola rasa e allora c'erano questi riflessi incredibili sembrava un cielo un cielo d'apocalisse sai che in questo momento hai risolto un enigma senza saperlo senza saperlo scorso anno io ho intervistato una lo chiamerò glielo dirò a questo punto una superstite della famosa strage di Gorla sì una signora che aveva sei anni il giorno del bombardamento che si salvò dal bombardamento e che disse che quando sentì arrivare agli aerei guardando verso l'alto vide tantissime cose sberlucicanti nel cielo erano queste striscette ecco cos'erano e lei non si è mai sempre chiesta cosa avesse visto a me questa cosa me l'ha spiegata l'ingegnere Soncini insomma che l'aveva studiata questa cosa serviva per riflettere le onde sonore e mettere fuori uso gli aereofoni tra altre cose con la strage di Gorla l'abbiamo un po' vissuta in famiglia perché c'era una una che lavorava una signora una muciccia se non sbaglio che lavorava con mia madre con nostra madre che ha avuto la figlia adesso magari mio fratello poi mi bacchetterà perché lui è molto preciso e di da scarico la figlia la sorella la cugina qualcuno che è rimasto col morto insomma l'hanno trovata l'hanno trovata semicarbonizzata tutta nera è uscita di senno me l'avete uccisa me l'avete uccisa 194 per me è assurdo 206 morti in tutto è assurdo e poi ripeto mi ripeto ma volutamente accendi il televisore e vedi queste scene in Ucraina in cui sta morendo la popolazione civile guarda l'inondazione ha fatto saltare la diga il rischio di catastrofe mondiale se manca acqua alla centrale nucleare mi è fuori un finimondo ma non lo so sono molto molto confuso e molto confuso ecco mentre dicevano tutti che sono un ottimismo un innato ottimismo in questo momento non ce l'ho vedo questa barbarie un tuo ottimismo è perso l'ho perso perché ho visto che la stupidità governa la stupidità governa per mettere in crisi adesso stiamo uscendo un po' l'asseminato ma se tu vuoi mettere in crisi un paese gli fai 4-5 operazioni finanziarie quel paese è distrutto cosa serve mandarla ai caramati ammazzare la popolazione civile uccidere tutto ammazzare tutto spaccare tutto è antietico è antietico è fuori tempo erano cose che si facevano nel passato secolo invece lo stanno facendo adesso trucidare le persone forse c'eravamo illusi che era qualcosa di un tempo di un tempo invece la stupidità umana è sempre quella che dopo il secondo conflitto la ragione fosse un po' prevalse invece invece siamo ripiombati per fortuna la ragione prevale invece lungo la fratellizzoglia è un posto magico che è la cascina all'interno in cui potete venire a trovare Gianni Bianchi e non solo non solo i nostri linternini i miei soci consentimi di dirlo perché io, Angela e Enrica abbiamo l'interno nel cuore ci siamo nati vissuti cresciuti quindi come ti dicevo prima è un amore viscerale i miei soci i miei soci sono dei quartieri limitrofi sono entrati per caso a cascina all'interno non sono andati più via cioè l'internite li ha conquistati subito subito riusciamo ecco riusciamo a regalare a offrire a regalare magari un paio d'ore di serenità in questo mondo che sta andando veramente male Fabio lì due ore venerdì sera abbiamo avuto un spettacolo con serate musicali non è suonato un telefonino la gente c'era solo uno che guardava il telefonino mentre il gruppo Enervia cantava gli ho dato un'occhiata l'ha messo via subito abbiamo fatto 12 serate per le lucciole ne bastava una no? ne abbiamo fatte 12 perché? ma per dare a tutti la possibilità di vedere questa magia delle lucciole bastava dare quelle 5 o 6 pseudo regole all'inizio e basta e le ha rispettate due ore senza cellulari ed erano loro che mi rincaziavano hai fatto il miracolo non è un miracolo io dico che a rimediare si può basta volerlo guarda torniamo al nostro territorio il parco delle cave quando era in piena attività l'escavazione le discariche era un luogo di morte è bastato bloccare le discariche l'escavazione le discariche aiutare la natura a riprendersi e adesso abbiamo il più bel parco che ci possa essere perché rimediare si può basta volerlo anche i miei fontanili io sono nato e vissuto nei fontanili poi li ho visti morire e adesso li vedo riprendersi ma non è ripeto passatismo ma è futuro il grande Olmi diceva che il futuro è nella terra e lì all'interno è questo il futuro c'è il Mauro con la sua app con la sua fattoria didattica i bambini della scuola del Glicine che vivono nella casa del Glicine non nella scuola nella casa del Glicine che vivono a contatto con la natura imparano a mettere le piantine vederle crescere questo è futuro non è passato questo è futuro l'all'interno è futuro Gianni grazie allora grazie di averci fatto fare un viaggio nel futuro grazie a tutto quello che hai fatto nel passato io dico sempre che sono prove di futuro ecco quello che stiamo facendo e forse è quello che mi dà la voglia di continuare la carica perché poi ho dei risultati incredibili delle soddisfazioni anche un po' di incavolature ma fanno parte del gioco ma quando tu vedi adesso non si incavolano con l'idea della regia perché sei ore e mezza che andiamo avanti a parlare non andavamo finire due ore fa che stiamo facendo registrare adesso sarebbero con me mi prendo mi prendo il cazziatore quando vedi alcune centinaia di persone che arrivano lì e vanno via contenti ecco questa è la più grande soddisfazione che un volontario del territorio come mi riferisco possa possa volere grazie Gianni no grazie Fabio grazie anche a voi grazie a tutti ci sentiremo prestissimo l'interno è sempre lì fra mili anni ci sarà ancora cercate che c'è all'interno tutto accanto senza l'apostrofo è lì che vi aspetta e potete veramente scoprire un angolo di Milano e di paradiso e di storia di una storia sua e di vita tutta sua sì sì di storia milanese e di vita milanese grazie davvero a tutti ci trovate come sempre due volte a settimana sempre qui su Milano All News a presto a presto